Un cordiale saluto, buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di lunedì 6 maggio 2019. Siete sul canale 17 di Fano TV e come tutte le mattine alle 7.30 ci vediamo per leggere i titoli delle notizie più importanti dei quotidiani Corriere Adriatico e Ressore del Carlino, come sempre le edizioni di Pesaro e Urbino. Ma uno sguardo lo diamo subito al calendario del giorno per vedere il santo di oggi. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Pietro Nolasco, mentre il sole è sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20 e 15 minuti. Per quanto riguarda il tempo di oggi, visto che tutti ne stanno parlando anche a livello nazionale, non solo perché il tempo quando diventa maltempo provoca incidenti, provoca danni e quindi diventa cronaca. Ne parliamo oggi per dirvi che il tempo oggi sarà ancora perturbato, ci saranno localmente anche rovesci o temporali sparsi di forte intensità con il limite della neve intorno agli 800 metri. Chiaramente questo poi per fortuna finirà verso la tarda mattinata, andremo verso il bel tempo nel corso del pomeriggio. Attenzione anche ai venti che soffieranno per la giornata di oggi dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte sulla fascia costiera. Per la giornata di domani il tempo, vedete, migliora. Il 7 di maggio si presenterà con cielo nuvoloso, attività ancora cumuliforme di nuvole nel corso del pomeriggio, soprattutto sui rilievi. Le temperature minime sono ancora in diminuzione, ma le massime riprenderanno e saranno dunque in aumento. Mercoledì 8 maggio ancora cielo sereno poco nuvoloso sulla costa, mentre qualche possibilità di breve piovasco sui settori centro-settentrionali interni della regione. Le condizioni del tempo saranno stabili per quanto riguarda comunque il resto della settimana, anche se probabilmente sabato ancora cambierà un po' il tempo. Ma vedremo, sabato e domenica potrebbe di nuovo tornare brutto tempo. Il Fano, l'Alma Juventus Fano è retrocessa e quindi parliamo di sport. Il calcio segna purtroppo il ritorno in Serie D del Fano dopo alcuni anni, tre anni passati in Lega Pro. Questa è la notizia del giorno. Poi si è corsa la Colle Marathon, dunque ieri mattina tanti atleti che sono partiti da Barchi fino a Fano. Hanno animato le strade della nostra provincia e poi c'è la politica, tante le notizie di politica che però noi questa mattina non tratteremo. Ma c'è anche la salvezza della VL, parliamo di basket pesarese, ma tra i fischi è stata davvero una brutta partita. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, salvezza tra i fischi come fotonotizia. Poi Fano vittorie lacrime, non è servito a nulla la vittoria del Fano ieri perché dipendeva molto anche da un altro risultato. E dunque si apre il baratro della Serie D. E poi la cronaca, la cronaca con le notizie dal Tribunale che vedremo tra poco. E allora, questo è il titolo del resto del Carlino, le pagine di sport. Il Fano retrocesso in Serie D, la bella rete di Morselli è inutile, Granata ultimi, Verona i play out. L'ultima onta sei anni fa, lo striscione polemico da parte della curva, grazie di, con la sola lettera, senza, quindi non la preposizione, insomma, ma soltanto la lettera, tutto, grazie di tutto. Il risultato Fano 1, Triestina 0, sotto un grappolo di tifosi, aspetta i giocatori per la contestazione a fine partita, praticamente fuori dagli spogliatoi, ma tutto poi si è sistemato, insomma, alla fine è stata composta incisiva, certamente. Nessuno invece si è presentato in sala stampa, tanta era la delusione che, appunto, non si sono presentati nei giocatori, né alcuni, né i rappresentanti della dirigenza al termine del match tra l'Alma e la Triestina. Dopo l'amara sentenza della retrocessione, si sono tutti volatilizzati. E questa è l'altra pagina, e questo invece è lo striscione, vedete, grazie di tutto. Lo striscione dei Panthers, lo striscione degli irriducibili, quelli che in curva ieri, nonostante tutto, erano lì ancora ad incitare i propri beniamini. Gettati via troppi punti, l'analisi dell'allenatore, ne bastava uno in più. Dice lui, il dramma non porta alla data di oggi, cioè non è per colpa di questa partita, che tra l'altro è stata vinta ieri, ma insomma, la retrocessione è figlia di una serie di errori, e qui c'è la disamina del mister. Poi le pagelle, Sosa, un gigante fino in fondo, e Sarra si riscata. Il capitano ha onorato la maglia. E le parole appunto dell'allenatore, si è lavorato con onestà e serietà, tutti quanti, mi dispiace per i tifosi e il club, siamo stati puniti da singoli episodi. I tifosi hanno fischiato i giocatori, che qui hanno preferito, dopo un rapido sguardo, non avvicinarsi sotto la curva, sotto la curva granata, che sventolava appunto l'ironico striscione. E questa invece è la pagina del Corriere Adriatico della Colle Marathon, festa dello sport, all'arrivo doppietta del Marocco. Allora, Younes Zitouni si ripete quest'anno e vince. Il secondo è arrivato dopo cinque minuti. Tra le donne invece, a sorpresa, Asme Ghislane, la ragazza donna che ha vinto. Eccola qua sotto, mentre il vincitore lo vedete in quest'altra immagine sopra. Poi alcuni momenti della premiazione e soprattutto la grande festa con il lancio di coriandoli, sparati dai cannoni, alla partenza da Barchi. Un'immagine ormai diventata un simbolo, è classico, è un classico. Andiamo adesso sull'altra pagina invece, siamo sul resto del Carlino, per dirvi che tra i partecipanti c'erano anche Massimo Seri, il sindaco uscente, e il consigliere regionale Mirko Carloni. Carloni, che per qualche minuto è arrivato prima del sindaco, il sindaco consigliere, al traguardo con soddisfazione e un gran sorriso. Mentre sulla pagina di Fano c'è da registrare, e qui lo pubblica il resto del Carlino questa mattina, una polemica, una polemica tra i Cinque Stelle e il Vescovo di Senigallia. Qual è il motivo di questa diatriba? Il reddito di cittadinanza. E il Vescovo di Senigallia, Monsignor Franco Manenti, con la sua diocesi di Senigallia, che include anche alcune parrocchie della provincia di Pesurbino, come nei comuni di Marotta e di Mondolfo, il Vescovo ha parlato alcuni giorni fa di reddito di cittadinanza e lo ha un po' criticato. Queste critiche, in campagna elettorale peggio che peggio, non sono piaciute. Ieri ha rilanciato questa polemica il consigliere regionale Gianni Maggi, che ha contestato al Vescovo di aver avuto prima, intorno a febbraio, un atteggiamento vicino al bene della famiglia umana, e ora invece è critico sulle scelte di chi governa. E poi Chiose chiude con questa frase, forse lui con cittadino di Antonio Stradivari sta facendo una sviolinata a qualcuno. Questa è la chiusura con la domanda. Alcuni tifosi del Fano, qui siamo sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, vedete la fotografia, ieri hanno aspettato i giocatori, dopo la sentenza della retrocessione in Serie D, si sono trattenuti davanti agli spogliatoi per parlare con i giocatori, ma senza incidenti. Ma l'apertura è per Pizzarotti, il sindaco di Parma, lui stesso candidato al Parlamento europeo nel Collegio del Nord-Est, fondatore della lista Italia in Comune, è venuto ieri a Fano in appoggio alla candidatura di Massimo Serri. La lista è rinviata alle regionali e il sindaco dice siamo ancora piccoli ma vogliamo crescere in fretta. E ancora dalle pagine dei quotidiani di oggi, siamo di nuovo sul resto del Carlino, questa volta a Pesaro, perché? Perché oggi parlerà Zaccaria Safri, che è sotto processo con l'accusa di aver ucciso Sabrina Malipiero, nella foto a destra, la 52enne commessa pesarese, e oggi lui appunto vuole ribadire la sua innocenza. Potrebbe farlo già questa mattina, nella terza udienza davanti alla Corte di Assise, se ci sarà del tempo, vorrà in qualche modo ricordare e vorrà spiegare alla Corte la sua infanzia, la sua adolescenza, dalla mamma che ha avuto diversi figli da alcuni uomini, dalla morte del papà a cui teneva tanto, e anche del viaggio e della speranza che ha fatto in Italia, ma così anche del rapporto che aveva, dice lui, il suo avvocato con Sabrina. Inizialmente un bellissimo rapporto di amicizia, collegabile anche alla cocaina, che per un po' hanno smerciato insieme, scrive il Carlino questa mattina, poi si sono divisi, lei, secondo quello che ha detto Safri, si sarebbe rivolta ad altri spacciatori, però il nostro assistito dice quindi andate a cercare in quella cerchia l'assassino, andate a cercare in quei rapporti, nel via vai di gente che frequentava poi quella casa. Ancora dai giornali siamo sulla pagina del Corriere Adriatico, perché? Perché l'ex manicomio, il San Benedetto di Pesaro, fondato, inaugurato nel 1883, e che porta il nome di Benedetto Cappelletti, che lo concepì nel 1823, ebbene è in vendita, però il bando dell'Asur non c'è. Ricci, il sindaco di Pesaro, videomessaggia e dice, sbloccata un impasse trentennale, senza l'alienazione il progetto non parte, manca anche la variante per il cambio di destinazione dell'ex psichiatrico, ma la faremo entro la fine dell'anno. Intanto la notizia buona, sempre per i pesaresi, è che si va avanti tutta con la tabella di marcia per la realizzazione del Museo Nazionale dedicato a Gioacchino Rossini. L'avvio del cantiere è il primo passo anche per la riqualificazione, poi tra l'altro, dell'asse del centro storico tra via Passere e via Mazza. Comincia l'allestimento per l'apertura il 20 maggio in attesa del ritorno di Pleiel del Cigno. E poi ancora dalla pagina di Senigallia la cronaca con i furti, furti a Scapezzano, in questo caso un'anziana è stata derubata di tutti i gioielli da parte di una donna che con la scusa di consegnare dei santini si è intrufolata dentro casa e ha fatto razzie. È accaduto venerdì mattina, come dicevamo, a Scapezzano, la signora è un'ultra settantenne e ancora sotto sciocche, non riesce a capire come possa essere accaduto. E poi continuano ad essere truffate le persone che da ogni parte d'Italia cercano appartamenti, cercando anche di fare delle occasioni, di prendere delle occasioni, delle offerte attraverso internet, offerte che poi spesso si rivelano delle truffe, delle beffe, così come è successo ad un'altra persona che è stata truffata, questa volta della provincia di Vicenza, che voleva venire in estate a Senigallia e che purtroppo si è presa la classica sola, come dicono a Roma. E poi, ancora dalle pagine del Corriere Adriatico, siamo nella pagina di Vallefoglia, Key Sport, l'efficienza fisica che fa scoprire i campioni, i dati dell'azienda di Montellabate, secondo un brevetto del 2010, tengono banco in Serie A. Ancelotti su Sky ha mostrato i grafici che ribaltano l'analisi della corsa del Napoli. Pioggia e freddo in collina, anche fiocchi di neve, questa è la fotografia di Carpegna, ieri sera che era imbiancata di neve, sulla costa l'umidità ha raggiunto l'84%, dunque una domenica di pioggia e di temperatura è notevolmente scese, ma senza particolari disagi in tutta la provincia di Peso Urbino, disagi invece che ci sono stati, come vedremo, nella provincia di Fermo e di Ancona. La carica dei 347 ragazzi, questa è Urbino, oggi nella piazza di Cagli, 19 classi della Michelini-Tocci correranno per solidarietà. L'obiettivo è sconfiggere la fame del mondo, coinvolte circa 2000 scuole e 30 di 30 nazioni. E poi dedicata a Sara, dedicate a Sara ripartono le staffette del Bianchello, ieri vernissage a Palazzo Ducale, saranno 32 tappe in 26 località. e Sara, eccola qua, l'indimenticabile Sara Bracci, che era sommelier e che è morta purtroppo recentemente dopo alcuni anni, dopo un incidente stradale. Qui siamo invece a, e qui dicevamo del maltempo, a Filottrano, guardate, è una foto scattata ieri, sembra neve, in realtà è una grandinata imponente, che ieri ha imbiancato le strade di, appunto, Filottrano, strade scantinate che sono state allagate, soccorse due persone che sono rimaste bloccate dentro l'automobile. L'ultima pagina è dedicata allo sport, siamo ancora sul resto del Carlino, abbiamo detto che, sì, la VL è salva, ma ieri davvero l'hanno fischiata tantissimo. Salvezza e disonore, Pesora asfaltata in casa è contestata, ma Pistoia perde e le regala dunque la permanenza in Serie A. Un match da paura, squadra senza idee né cuore, Reggio Emilia ci rifila 27 punti, i tifosi hanno fischiato la squadra e un po' tutti quanti. Insomma, alla fine il risultato, Grissin Bon 100, VL 73. Questa è l'ultima pagina della nostra selezione di notizie della rassegna stampa del mattino, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con il telegiornale cui seguirà poi di nuovo una puntata in diretta di Occhio al Voto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.